... ... ... ... che oggi non è stata 7 secondi e 4 in margine su 2 secondi e 2 da Hamilton fatto da un secondo troviamo massa da massa c'è Alonso staccato di 4 secondi c'è a Petrov che ha compromesso un po' la sua prestazione che non è fuori pista quindi ne casciamo a Kobayashi e due lì Ingegnere dice ad Hamilton dobbiamo allungare quindi devi stare attento ai tuoi pneumatici se non riesci a passare di Kite questa è la pubblicazione all'ingegnere con i Kite davanti che riesce a mantenere un buon massimo